Buongiorno a tutti e benvenuti a un altro episodio dei racconti dal nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e oggi racconterò per voi la storia della seconda missione in Italia del Maggiore Barton, la Evaporate. Barton già lo conosciamo per le sue avventure che abbiamo raccontato la settimana scorsa e che siano risolte, purtroppo per lui, in un nulla di fatto. Tuttavia, dopo il suo rientro, il suo rapporto sulla situazione dei partigiani nella zona tra Carpi e Mirandola era circolato tra i comandi, che si erano convinti che la zona fosse promettente e che quindi fosse il caso di inviare una missione vera e propria. Lo stesso Barton, nonostante le sue precarie condizioni fisiche dovute alla pellaga che aveva contratto e che gli aveva coperto la schiena di piaghe, era impaziente di ripartire ed essere nominato a capo di questa nuova missione. Fu quindi in tempi brevissimi che da Bari, quartiere generale dell'essore in Italia, arrivò il via libera. Prima di iniziare il racconto dell'Evaporate, bisogna però parlare della sottomissione che la precedette. Mentre Barton si stava riprendendo e si cercava il personale per la sua nuova missione, infatti, furono inviati due ufficiali nella zona per preparare il terreno. Questi erano il capitano Neil Offred e il caporale Ted Fry, la cui missione fu battezzata Cisco Red II. I due furono lanciati il 10 febbraio 1945, su un campo preparato da un altro agente già in loco, il capitano Michael Lees, che poi li condusse da Jim Davis, di cui abbiamo raccontato le vicende nell'episodio 7 del podcast. In effetti, lo scopo di questa prima missione non è del tutto chiaro. Gli ordini di Offred menzionano solo, come abbiamo detto, il compito di preparare il terreno per l'Evaporate, che doveva mettere in contatto i partigiani locali con la quinta armata alleata oltre le linee del fronte. E tuttavia, dopo la guerra, il capitano stesso raccontò che gli fu detto da Parton che avrebbe dovuto tentare un colpo di mano contro un generale tedesco. Forse è proprio lo stesso von Viettinghoff, il cui assassino era fallito alcuni mesi prima, e che sarebbe tornato in Italia di lì a poco, dopo un periodo sul fronte russo. Naturalmente è quasi impossibile verificare la veridicità di queste affermazioni, perché tutti i protagonisti, purtroppo, sono morti da tempo. Ad ogni modo, Offred e Frye si misero all'opera e riuscirono a mettere in piedi una rete di corrieri dal loro quartiere generale, il borgo di Costa Bona, sulle montagne dell'Appennino. Il 12 marzo ricevettero la notizia che Barton li avrebbe raggiunti di lì a poco, e quindi si spostarono più a valle, a Monte Largo. Tuttavia, furono ben presto costretti a ripiegare per via della presenza nemica, e si rifugiarono a cavola. Anche qui, però, furono ben presto scacciati, e della Evaporate non si avevano più notizie. Il 22 il nemico lanciò un rastrellamento, e il 31 i due ebbero uno scontro a fuoco con una pattuglia. Sfuggiti alla cattura, seppellirono il kit radio e si diedero alla macchia. Il 9 aprile Offred, infine, ricevette l'ordine di abbandonare tutto, e unirsi a Charles Holland della Toffee, di cui abbiamo parlato nell'episodio 8. Cosa questa che l'ufficiale fece il 14 aprile, chiudendo quindi la Circo Red 2 senza nemmeno aver mai visto Barton. Quanto al nostro maggiore, nel frattempo era stato trattenuto alcuni giorni a Firenze parte da Charles McIntosh, che si rifiutò di farlo partire con la schiena coperta di piaghe, e lo costrinse ad un paio di giorni di riposo in ospedale. L'Evaporate, quindi, partì soltanto il 20 marzo 1945, composta da Barton stesso, il sergente Barat e due fratelli italiani, Gino e Mario Barbera. Il piano era di buttarsi alla cieca tra Carpi e il fiume Secchia, in una zona che Barton ormai conosceva bene. Per questo motivo i quattro non si portarono dietro molto materiale, perché avrebbero dovuto spostarsi rapidamente una volta toccato terra. L'equipaggio del bombardiere che doveva sganciarli, però, era completamente inesperto, e il maggiore dovete descrivere la procedura di lancio nei minimi dettagli. Tuttavia, prevedibilmente, le cose non andarono affatto lisce. Come scrisse Barton Al chiaro di luna arriviamo nella zona Bersaglio verso mezzanotte e mezza, e, dopo diversi giri e un messaggio dal navigatore che ci disse che non era sicuro se fossimo nella zona di ricezione o meno, decidemmo di saltare. Il lancio fu buono e non c'era segno di trasporti o movimento sulle strade mentre scendevamo. Come stabilito, Gino, l'ultimo a saltare, fece lampeggiare la sua torcia e ci raccogliemmo intorno a lui, iniziando a cercare i due pacchi con il materiale. Gino ci disse che ne aveva visto uno soltanto cadere dopo di lui, e lo troviamo a circa 30 yardi di distanza. Era quello col set radio. Passammo quindi un'ora a cercare l'altro, ma non ce n'era traccia, e così decidemmo di lasciar perdere e aspettare l'alba, quando avremmo potuto vederlo prima che lo trovasse qualcun altro. Impacchettammo i paracadute, li nascondemmo sotto dei cespugli e ci dirigemmo verso est finché non arriviamo al secchia. Non avevo idea di dove fossimo, quindi ci recammo a una fattoria e scoprimmo che eravamo 30 km a nord del punto in cui saremmo dovuti atterrare. Qualche altro secondo in più sull'aereo e saremmo arrivati a nord del Po. Una cosa questa che avrebbe potuto porre una fine prematura alla loro missione, perché sarebbero atterrati nel bel mezzo delle forze tedesche. Il fattore che li aveva ospitati li guidò fino a Bondanello, e lì si incontrarono con un uomo che conosceva i partigiani di Concordia, un altro borgo della zona, e che promise di tornare a prenderli con una pattuglia. I uomini dell'Evaporator, protetti dalle nebbie mattutine, tornarono sul luogo dell'atterraggio, seppellirono i paracadute e nascosero le tracce del loro arrivo. Tuttavia, del contenitore mancante non c'era ancora traccia. Stanchi, i quattro si misero a dormire in un pagliaio. Il loro riposo fu però interrotto da una ragazza, che li venne ad avvisare del fatto che il contenitore era stato finalmente trovato, ma dai fascisti, messi in allarme da un fattore che aveva visto il lancio. Visto che era logico aspettarsi una caccia all'uomo, Barton decise saggiamente di cambiare aria. I uomini si stesero sul fondo di un carretto e, protetti da uno spesso strato di paglia, furono portati in campagna aperta, dove si nascose in un fosso. I fascisti, scrive Barton, li cercarono senza troppo entusiasmo e, alla fine della giornata, se ne tornarono a casa con le pive nel sacco. Nemmeno i partigiani però si fecero vivi e quindi il maggiore assoldò una guida per arrivare a Concordia. Dopo una marcia di una decina di chilometri, il gruppo arrivò a un villaggio a nord, del borgo, dove furono nascosti da un fattore che si era costruito una buca sotto la sua stalla. Durante il giorno sentivano i tedeschi lavorare lacrimente a pochi metri di distanza, perché stavano costruendo una postazione d'artiglieria nel giardino della fattoria. La notte successiva si presentò un capo partigiano, che immediatamente li accusò di essere spie. Barton non ci dice come fece a convincerlo del contrario, ma, dopo lunghe discussioni, ci riuscì. I partigiani li nascosero quindi in un piccolo bunker scavato nel bel mezzo di un campo arato. L'Evaporate trascorse dieci giorni così, insieme ad alcuni partigiani. Al crepuscolo il fattore arrivava e interrava l'ingresso, che poi provvedeva a sgombrare ogni mattina. Un giorno i tedeschi lo notarono scavare nel bel mezzo del campo, si insospettirono e lo portarono via per interrogarlo. Per fortuna, però, riuscì a cavarsene in qualche modo. Tuttavia, questo era solo l'inizio dei guardi per Barton e i suoi. Questi tedeschi, infatti, facevano parte di un largo rastrellamento, il cui scopo era assicurare le retrovie tedesche, terrorizzando la popolazione. Il futuro era tetro per l'Evaporate. I partigiani erano male armati, depressi, e le bande si stavano sfaldando per tornare in montagna. Barrett riuscì solo con grande difficoltà a usare la radio per contattare la base, e Barton decise di annullare il lancio del capitano McDermott, che avrebbe dovuto raggiungerlo, e fargli assegnare Offred alla Toffi per snellire la missione. Come scrive, fu una delusione, ma non c'erano alternative. Uno dei problemi, secondo Barton, era il comandante partigiano di Concordia, Cesare Duganza, di appena vent'anni, e che il capitano descrive come un comunista del peggior tipo. Il maggiore, quindi, assegnò Mario Barbera, uno dei suoi compagni italiani, ad assistere il comando partigiano, cosa che, scrive, produsse una riorganizzazione delle bande e un aumento del morale. La situazione, comunque, restava sempre molto pericolosa. I tedeschi stavano all'erta e restavano chiunque facesse troppe domande sui loro movimenti. I fascisti, scrive Barton, erano anche peggio. Più crudeli e spietati erano soliti torturare i prigionieri prima di ucciderli. Il primo di aprile, Barton riuscì a contattare la brigata garibaldina Remo di Mirandola e partì per raggiungerla, lasciandosi indietro Mario, che rimase con i partigiani fino alla fine della guerra. La Remo, forte di 800 uomini, era meglio organizzata. Metà dei suoi partigiani vivevano in nasconditi sotterranei nelle campagne, mentre l'altra metà viveva tra i tedeschi alla luce del sole, spesso lavorando per loro sotto copertura. Divisa in cinque battaglioni, la brigata era dotata di un servizio di intelligence notevole, considerate le condizioni di sorveglianza in cui operava, e lo mise al servizio di Barton, che passò tutte le informazioni che riceveva ai comandi. Il capitano ebbe modo di conoscere il comando della brigata, di cui sembra avere un'opinione migliore rispetto a quelli della Concordia. Giuseppe Ferraresi, Polo, il comandante, viene descritto come coraggioso e onesto, o la più alta stima di quest'uomo e lo considero il miglior partigiano che abbia incontrato. Tullio Paltrineri, Ivo, il commissario politico, non era un uomo imponente, ma era intelligente, lavorava sodo ed era molto amato. Barton si muoveva nella zona di notte, le strade erano ben sorvegliate, ma era facile sgusciare tra i campi coltivati. Si recò quindi dai capi dei vari battaglioni per organizzare un lancio. Inizialmente i partigiani non erano molto convinti della cosa. Secondo loro era impossibile ricevere dei rifornimenti aerei in una zona del genere, era semplicemente troppo sorvegliata. Tuttavia, ben presto ci ripensarono. Lo scontro finale col nemico era nell'aria e sicuramente armi e munizioni avrebbero fatto comodo. Furono così individuati due campi di ricezione. Il primo era un campo coltivato, il secondo una radura al centro di un boschetto. Tra l'altro l'Evaporate era dotata di uno degli ultimi ritrovati tecnologici, un sistema Eureka che permetteva di inviare un segnale da terra verso un ricevitore, chiamato Rebecca, trasportato dagli aerei in avvicinamento e che permetteva così di individuare la zona di ricezione con maggior precisione rispetto alle semplici luci che si usavano tradizionalmente. I primi lanci, però, furono una delusione. Gli aerei volavano troppo alto e i contenitori si sparpagliarono in giro, finendo nelle mani dei tedeschi. Il lancio migliore che i partigiani ricevettero fu dovuto essenzialmente al caso. Nella notte, ore prima del momento convenuto, partono di l'umore di un aereo in avvicinamento. Con presenza di spirito, fece lampeggiare la sua torcia nella direzione del veivolo, che sganciò il suo carico senza colpo ferire. Nonostante a terra non ci fossero altre luci di segnalazione, né il capitano avesse fatto partire il segnale dell'eureca. Per di più, a parte Barton, non c'era nessuno al campo per raccogliere i contenitori. Ad ogni modo, in meno di due settimane, i partigiani ricevettero dieci carichi di armi e munizioni che li misero in grado di operare con più efficacia. Quanto i tedeschi, scrive Barton, non tentavano mai di impedire questi lanci, e la gente non sa spiegarsi il perché. Tuttavia, il nemico non rimase del tutto con le mani in mano. Il 14 aprile, la Evaporate, con una piccola scorta partigiana, si trovava in una casa in campagna, da cui Bart trasmettere i suoi messaggi radio alla base usando la soffitta. Barton e i partigiani si stavano riposando al piano inferiore, quando una pattuglia della brigata nera si fermò all'esterno. L'ufficiale comandante entrò nella casa e chiese i documenti. La situazione era pericolosa, perché Barton e i suoi avevano lasciato le armi in un'altra stanza. Il capitano quindi si scagliò contro l'ufficiale, uccidendolo a mani nude, ma il trambusto mise in allarme i fascisti all'esterno, che iniziarono a sparare. Il conflitto a fuoco, che si sarebbe potuto risolvere molto male per i partigiani, attirò però l'attenzione di altri partigiani, che stavano nascosti in un bunker scavato sotto un campo vicino. Armati fino ai denti, grazie ai lanci appena ricevuti, questi piombarono sui militi e li misero in fuga. I fascisti però non demorsero, e tornarono alla carica con dei rinforzi. Anche i partigiani nel frattempo avevano però richiamato gli uomini della loro brigata, e lo scontro si trasformò così in una vera e propria battaglia campale, che si concluse con la rotta del nemico, il quale perse cinque ufficiali italiani e uno tedesco, mentre i partigiani ne uscirono illesi. La vicina guarnigione tedesca, allertata da tutto questo baccano, non si mosse perché era convinta che gli alleati avessero inviato un battaglione di paracadutisti nella zona. Ad ogni modo, la vittoria risollevò notevolmente il morale dei partigiani, ma la vicenda ebbe un esito amaro. I fascisti, coraggiosi come sempre, tornarono qualche tempo dopo, bruciando la casa e ammazzando il fattore. Il 20 di aprile, Parton ricevette il via libera per un attacco senza quartiere contro le posizioni nemiche. Inizialmente i partigiani avevano qualche dubbio, perché non sembrava che stesse succedendo nulla sulla linea del fronte, ma verso sera le troppe alleate inizierono ad avanzare verso il Po e le bande uscirono dai loro nascondigli per dare battaglia. La situazione, già di per sé confusa, fu complicata ulteriormente dal lancio, senza che nessuno ne fosse avvisato, di alcuni paracadutisti dell'esercito italiano. Era l'operazione Harrington. I paracadutisti combatterono bene, scrive Barton, ma sarebbero stati quattro volte più efficaci se si fossero coordinati con i partigiani. Nonostante la confusione, Barton e i suoi uomini continuarono ad attaccare le truppe nemiche, che avevano iniziato a ritirarsi. I partigiani liberarono numerosi villaggi prima dell'arrivo delle truppe alleate e, infine, entrarono a Mirandola il 22. A luna dello stesso giorno, però, gli americani, che evidentemente non sapevano cosa fosse successo, iniziavano a bombardare il borgo. E visto che non accennavano a fermarsi, Barton, Barat, Polo e un altro partigiano partirono per andare ad avvisarli. E qui per poco non successe il disastro. Visto che camminando ci stavano mettendo troppo, Barton si fece prestare una bici e andò in avanza scoperta con due partigiani. Il gruppetto giunse così a un posto di blocco, nella penombra, pensando fosse americano. Il maggiore si avvicinò così alle sentinelle per salutarle e si rese conto, troppo tardi, che erano in realtà soldati tedeschi. La sua imitazione di un fascista non risultò molto convincente e i tre furono quindi arrestati. Barton fu condotto da un ufficiale, il quale però era già a letto e si rifiutò di interrogarlo fino al mattino. Dopo una notte passata così con i suoi compagni a distruggere tutti i documenti incriminanti che aveva addosso, fu finalmente interrogato da questo capitano tedesco, che lo scambiò per un ufficiale della Quinta Armata americana. Un errore sensato, visto che le avanguardie alleate erano nella zona. E per Barton questo fu un discreto colpo di fortuna, perché non fu inviato alla Gestapo, cosa che ne avrebbe decretato la fine, visto che, come sappiamo, sotto di lui pendeva una condanna a morte per le sue azioni in Jugoslavia. I tedeschi, comunque, erano demoralizzati e poco propensi a battersi o a sovegliarli attentamente. Quando gli americani attaccano le loro posizioni, Barton e i suoi compagni poterono sgusciare via senza problemi. Alla fine delle operazioni, la Evaporate poter avvantare risultati di tutto rispetto. I partigiani locali, che aveva armato, erano riusciti a liberare molti villaggi, uccidendo centinaia di nemici e prendendone prigionieri un migliaio. I ponti sul secchio erano stati mantenuti intatti, e tra l'equipaggiamento catturato spiccavano quattro carri armati e due pezzi di artiglieria. Scrisse Barton. I partigiani si comportarono incredibilmente bene, e dopo che l'iniziale entusiasmo fu passato, rimasero calmi e in buon ordine. Ritengo che i partigiani della pianura si siano meritati tutto il sopporto che gli abbiamo dato, e si siano dimostrati in pieno dei patrioti coraggiosi. I problemi semmai arrivarono con l'AMG. Come sempre. Gli ufficiali del governo alleato arrivarono rapidamente nella zona, e ancora più rapidamente se ne andarono. Non prima però di aver ordinato al CLN di liberare tutti i prigionieri fascisti in attesa di processo. Questo naturalmente causò una mezza sollevazione popolare e alcuni casi di linciaggio. Barton nel suo rapporto non va tanto per sottile. L'atteggiamento verso i fascisti fu patetico. Era gente che aveva torturato e ucciso le famiglie e i cari di queste persone, e non c'era certezza che fosse fatta giustizia. Alcuni furono portati a Modena dal governo militare alleato e nel giro di una settimana furono visti marciare nella prata di disarmo in onore dei partigiani. Il risultato di questa mancanza di visione fu un'ondata di omicidi che fu molto difficile da contenere. Il 12 maggio 1945 la missione fu definitivamente liquidata, e Barton, che nel frattempo aveva tentato di farsi assegnare i commandos per continuare a combattere, fu smobilitato. La guerra era finita. La seconda missione di Barton in Italia è quindi decisamente più simile ad altri racconti che abbiamo visto rispetto alla prima, anche se il fatto che la Evaporate e i suoi uomini vivessero in pianura rese il tutto molto diverso dalle operazioni che si potrebbero compiere sui monti. La zona era più facile da controllare per il nemico, e quindi non si potevano raccogliere grosse formazioni partigiane come nel Cansiglio o sulle Alpi Piemontesi, senza che queste venissero spazzate via. La guerriglia era quindi più concentrata su azioni di sabotaggio di piccole dimensioni, imboscate fulminie e assassini mirati. Barton prese parte a questa vita solo per un vero periodo, appena un mese e due giorni, eppure dalla quantità di aneddoti che ha da raccontare si capisce quanto movimentata e pericolosa fosse questo tipo di lotta partigiana. I monti erano spesso inospitali, faceva freddo, mancava cibo, ma si passavano anche dei mesi in relativa sicurezza, quando il nemico restava a valle perché impegnato in altre faccende. In pianura, questo lusso non esisteva, e bisognava stare sempre allerta. E anche oggi, quindi, siamo arrivati alla fine del racconto. Come sempre, spero vi sia piaciuto, e vi do appuntamento la prossima settimana per una nuova missione. Grazie a tutti.